Momentari ragazzi sono Torgorossi, bentornati in questo nuovissimo episodio di Skyrim Remastered Ah, sono qui così Allora, ci siamo fermati esattamente qui Dove abbiamo scoperto questo luogo Questa fortezza Stronghold, non so come chiamarla Con quattro statue tipo di... come cavolo si chiamano? Gargoyle Avevo pensato in questo episodio di assaltarla brutalmente, di vedere che cosa c'è dentro Però all'ultimo secondo ho detto meglio di no O almeno voglio aspettare di essere più forte Con qualche abilità in più, no? Che faccio ancora più danni, eccetera Quindi questa cosa è solamente rimandata Ma qua ci ritorneremo Ci ritorneremo Tu sei mio Porca miseria Però c'è comunque qualcosa che non ne va con le frecce Perché io miro in un punto Poi Cioè poi le frecce vanno Vanno tipo dove vogliono loro Là c'è C'è un granchio là L'ho L'ho visto là in lontananza Allora Sì siamo qui che Per esplorare Cioè tipo Piccolo frammento Che cazzo Ah è il mio cavallo Porca vacca Mi ha sembrato tipo un orso gigante Tipo No no questo è il mio cavallo Sì sempre Non lo so Perché già che ci siamo qui Vorrei approfittare per vedere cos'altro c'è Cos'altro Questo gioco Nasconde Tipo nei suoi limiti di mappa Che offre tipo 800.000 Com'è che si dice 800.000 Sensazioni E E Emozioni Non Sensazioni Emozioni Perché non sai mai che cosa ti Aspetta Comunque questo pezzettino L'abbiamo già Visto o sbaglio Uh salve Che cacchio ti nascondi Oh Ho sentito il rumore di una freccia Provenire da queste parti Boh Vabbè Comunque Prendiamo Sta Sta roba Che Servirà E Qua Non so se c'è qualcosa di Nascosto E A parte lì la La fortezza qua Porca vacca Ma non c'è niente Ah Ah ecco perché qua è tutto vuoto C'è questo è il limite della mappa Non posso andare in quella direzione Ma posso tornare Aspetta dove cacchio No senti Guarda che io sto andando verso Verso in giù Comunque Ah ma vedi Ah quindi dici che Qua non posso andare Che cazzo Ok ho raggiunto l'estremità Estrema della mappa Vero Sì Cioè In Quella landa di terra Non ci posso andare Per qualche Strano E oscuro Motivo Ma vedi C'è un C'è un C'è un C'è un muro invisibile Ah pure qui Eh vabbè Non mi fa salire qua Aspetta Adesso troviamo un punto D'appoggio Ok Non Non ne posso andare Per di là Quel pezzo di terra Non proprio Non posso Anzi in realtà Si potrei Usando i trucchi Però Non mi sembra Proprio il caso Proprio non riesco A salire qua No Quindi questa è La zona estrema Più o meno Ho la meno Di questa zona qua Capito Uh E dai Dai che mi serve Mi servono le chele qua Le cose Ecco per farmi Gli ingredienti Le cose Le pozioni Che fa Scappa quello Nel Nel di dietro Nel di dietro Nel di dietro Nel di dietro Che comunque Ah si che posso Ah no Tutto sigillato Vabbè Va bene Questo è il limite Di questa zona Vabbè È stato bello Finché È durato Esplorare Va bene Allora Vabbè Direi di fare Qualche missione Allora Così Facciamo anche Qual è Qual cosa La cappa grigia Di Nocturnal Coloca l'oggetto Ah Vabbè Proviamo a fare questo L'anello D'oro Di viola Nell'abitazione Di viola Giordano Però mi sa che Dobbiamo entrare Di notte Mi sa Che è una Che è una missione Che ci ha Dato Un tizio Che fa che mi è sembrato Un lupo un momento Si dobbiamo andare A Windelme Chissà se mentre Andiamo a Windelme Diventa automaticamente Notte Non è notte No Non è notte Va bene Lo facciamo noi Diventare notte E tra l'altro È il momento Anche di mangiare qualcosa Però no Attenzione Questa volta Non sono patatine È un'altra cosa Sono questi Non sono patatine O comunque Sono simili Buoni E sono Gusto Formaggio Allora intanto Facciamo Notte Qua Che le dici Ok Ehm Ah Gli ubriaconi Allora Faccio già Un salvataggio Perché Che cazzo Silda Silda L'invisibile Non è sempre Tanto invisibile Hai una moneta Per una povera donna Mio signore Insegnami A borseggiare Meglio Ma questa Non cerchi Una vita onesta Ti insegnerò Ma la cosa Ha un costo Ah ed è pure Un'esperta Lei 270 Vabbè Il borseggio Proprio Cioè Me ne Me ne sbatto Il borseggio Dov'è che è? Qua? Effettivamente Questo Punto Non Non Ci sono ancora Stato ad esplorare No Questa è la sala Dei morti Non credo che Viola Giordano Viva Qua dentro Insomma Sarebbe un po' Strano Ma che cacchio Ma cos'è Un'aquila? È un'aquila Questa Aquila Barra corvo Non si capisce Vabbè Eh Eh sì Vabbè Allora C'è un altro C'è un C'è un altro Ingresso No 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 Non c'è un altro Ingresso Quindi Orco Allora Eh qua Nessuno mi deve Vedere Allora Fortunatamente Sono già Un po' Livellato In fatto Di furtività Quindi Eh vabbè Ma mi vedono Aspetta Provo a mettermi Per di qua Ok Finché L'occhio È chiuso Vai Allora Ah Trovato il punto Uh Che culo Che culo Che culo Allora Salva Allora Calma Ah Dove è qua Allora Qua non dice niente Però Posso metterlo Tipo Dove voglio Ah Proprio qua Allora Rubo No Non rubo Però Metto Questo qua Qui E ora Via Si esce Sempre se nessuno Ma come è rilevato Ma da chi Ah Lei Ok Non Cioè tipo Mi ha intravisto Ma non Non ha collegato Che Va bene Va bene Facciamo questa Completiamo Palazzo Dei Dei re Che sarebbe Quello Presumo Allora Allora Parliamo Parliamo con Il tizio Che Cazzo Cosa Qua Perché C'ha una Cos'è Aspetta Aspetta Ma è una Cosa Personalizzata O no Cos'è quel simbolo Lì C'è Aspetta Perché c'è un C'è un simbolo Ah ma Ma che No Senti Io non ho fatto Nessun simbolo Rimuovi Ma che simbolo Ho messo Non mi sembra Di aver messo Nessun simbolo Boh Vabbè Va bene Allora Devo andare Tipo da tutt'altra parte Porca vacca Allora Dovrebbe Trovarsi Qui dentro New Nisis Con Con Club Oh Ma perché C'è Appiccicato C'è proprio Hai risolto Quel Piccolo Problema Ma Ma ci sono un casino Di Elfi oscuri O sbaglio Allora Ho messo L'annello di viola Nella sua casa Grazie Grazie E la profezia Di Asura Ti porti sempre Fortuna Vabbè Adesso A proposito Di fortuna Tieni Tutto quello Che ho guadagnato Con il mio ultimo Carico È tuo Addirittura Nell'arte oratoria Ok Ok Finito Finito Questa missione Bene Sei nel posto giusto Allora Guardiamo solamente Ah Comune E ciao 29 Porca vacca Quanto sono indietro In oratoria Ehm 340 Vabbè Boccale Scusa Non è che Vi incassate Se do un'occhiata Salve Ah ma qua Cos'è Proprio Gradoni Leggi Leggi L'eresia Acturiana Che cacchio è Il reggente Vesmir In coronare Ma che cacchio Allora Questo penso Sia abbastanza Interessante Da leggere Non so Perché Piccone Questa però La prendo Grazie Un gioco per cena Ok Allora Al momento Qui Per il momento Abbiamo finito Allora E una missione È fatta Allora Cosa Facciamo poi Perquisisci Il colpo Del ladro Allora Si è seppolto Nel cibitero Di Riften Proviamo A fare questo Già che ci siamo Allora Riften Si trova Qua Quindi No Aspetta Dove No Non nella fortezza Riften Perché lì Nella fortezza Dove c'è lo Jarl No Ok Intanto Si è fatto giorno Si Sono le 9 di mattina Però c'è un No Però il tempo Fa cagare C'è un argoniano Ciao Un altro argoniano Che Si dirige Verso di me Che cacchio c'ha Che cacchio c'ha Che cacchio c'ha Che c'è Notta in acque profonde Ah aspetta Ma che cacchio No aspetta Voglio vedere Che cos'è Cos'è sta roba Ma non dirmi Che è Non Ma è un Cos'è Una Lenza da pesca Abbastanza strana Qui si trova Allora intanto Mi prendo Queste robe qua Che servono Per le Pozioni Bella donna Ma Ma solo Bella donna Ci sono qua Che cacchio Uh Eh c'è Davvero un ladro Qui Aspetta Vediamo lui Che cosa dice Proprio Totalmente Indifferente Totalmente Indifferente Va bene Allora Nota del ladro Uh Prendi 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 Il calice Va bello Lasciamo a lui Che dici Anche il vaso E anche il pugnale Leggi la nota Del diario Del ladro Non Diario Allora 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 Libri Invito a cena Notte Del ladro Recita La frase In codice A una Mendicante La volpe Mi ha detto Che ha Indossato La cappa Per Dimenticarsi Di se stesso Per iniziare Una nuova vita Eppure Io sono A non Ricordare Ogni volta Che ci Incontriamo Per me È come Uno straniero O forse È Una straniera Non importa Ho riferito Le sue parole A una Mendicante Le ho detto Le ombre Ti nascondono Lei Mi ha passato Una nota Che conferma I miei Sospetti La volpe La volpe grigia È morta E ora Che ho Visto La sua lapide So per certo Che questa volta È finita E la cappa Troverà Un nuovo padrone Sarò io A indossarla E quando lo farò Diventerò Puntini Puntini Talmente Ricco Che i ricordi Non mi serviranno Ne comprerò Di nuovi Perché se C'hai i soldi Ti puoi Comprare i ricordi Come è giusto Che sia Tra l'altro Onesto O cosa sono Tutte queste Ah C'è Perché Ha una Mendicante Ok Quindi Devo dire C'è Ha una Mendicante E dire La frase La Le ombre Ti Nascondono Tipo Apri Cancello Per cosa Per entrare Lì O per fare Chissà Che giro Apriamo Poi Sbloccheremo Questi Cancelli Potremmo Già Sbloccare Questo Che dici Qualcuno Chi è Che mi Vede Allora Mannaggia Su Oppala Allora Proviamo Parlare Con Una Di Questi Due Tizzi Allora Chi è Questo Le ombre Ti Nascondono Cos'è Ho Indovinato Il primo Colpo Che Culo Nota Dello Straniere Questo Recupera Le Istruzioni Da Casa Di Bolli Facoltativo Convinci Niveror A darti Le chiavi Ma chi è Questa Gente Ma io Non mi Ricordo Di Questa Gente Ma che Cacchio È Sei qui Per un Lavoro Non sai Di che Si tratta Ma sicuramente Ti intriga Va bene Così Non è ancora Il momento Di sapere Tutto C'è Un Forziere A casa Di Bolli E Dov'è La casa Di Bolli Vabbè Me lo Indica Era il Gioco In un Cassettone Vicino Al Suo Letto Ok Trova Un modo Per Aprirlo Lì troverai Le istruzioni Per il Tuo Lavoro Uno Straniero Come giusto Che sia A casa Di Bolli Che cacchio Guardi Cacchio È la casa Di Bolli Bolli Ah Poi Che nome È Bolli Casa Di Bolli Never Ma Non Voglio Denaro Ho Letto Una Nota In cui Si Diceva Che un Ladro Ha Messo Qualcosa Nel Tuo Forziere Allora Persuadi Posso controllare io se vuoi per essere sicuri che non sia una trappola Ma come no Aspetta ma c'è qualcun altro Allora c'è lui con le braccia crociate non so se c'è qualcuno ho paura che forse c'è qualcuno non lo so Comunque Oh Non sto scherzando c'è davvero qualcosa nel forziere Se No se intimidisco Tipo Succedono casini Aspetta fammi fare un salvataggio Eh prevedi guai si Intimidisci Grazie Prendi questo è per te Ah Ok Quindi mi ha dato Chiave Chiave di Aspetta ma mi ha dato pure i soldi Che cacchio 11.500 Quanti soldi avevo prima Ma basta ho capito Non ho bisogno di soldi Allora Col bel drago Olaf il drago Ah Vediamo Allora U Rapporto richiesto Chi è questo? Aruba Aspetta Aha Bolli Mi dispiace dovartelo dire ma i tuoi sospetti sono probabilmente fondati Ho seguito Ho seguito Nivenorn come mi avevi chiesto E so per certo Che ha una relazione extra coniugale Con più invidigli a Riften Aia 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 questa pesa Devo ancora trovare le prove Del suo Adulterio Per cui ti prego di non farne parola con lei Fino ad allora Per il momento non ti chiedo nulla Però mi aspetto di ricevere l'intero compenso una volta trovata le prove Ok non ci sono altre pagine Però io direi di rubarlo questo E E Atto contraffatto Cos'è questo? Ah no è questo le istruzioni Ma io prendo tutto Ma che barbonagge Sei Basta hai rotto Aspetta fammi andare qua sotto Cosa c'è qua? Ah No non c'è niente di che Hai rotto le palle Porca vacca Una frecciata in mezzo agli occhi Ehm Che devo fare? Ah leggere Ehm No No non è la nota vero? Istruzioni Ruba l'atto di proprietà Indaga presso la casa di Harry Curran Sei arrivato fin qui Queen Disse pronto per il vero lavoro Ma prima Parliamo del perché sei qui Probabilmente avrei sentito Dire che la volpe grigia è morta E' vero Ma la volpe Vive In colui che indossa la cappa Questo lavoro mi dirà Se questa persona Puoi essere tu Cioè quindi io diventerò la volpe grigia Tipo Chi sono? Non è importante Solo uno straniero Che vuole vedere la cappa Addosso a qualcuno Che se la merita Come avrei già capito Il lavoro non sarà semplice Dovrei avere dita E mente agili Ma se ci riuscirai Sarai degno di essere La prossima Volpe grigia Così sai Prendi l'atto contraffatto dal forziere Poi trova una donna Dei nomi Gisli A solitude A solitude Ok Dovremmo andare anche a solitude A sto punto E andremo a solitude Lei ha il documento originale Sottraile questo fardello E posiziona il falso A casa di Harry Curr Lei penserà Di averlo messo fuori posto Quando avrei finito Trova la botte Dietro lo skiver amicante Aspetta Lo skiver amicante Sì me lo ricordo Ci sarò stato Tipo 800.000 volte Lo skiver amicante Sì Quello me lo Me lo ricordo Per ricevere Ulteriori istruzioni Quindi Ci sarà un contatto Allo skiver amicante Va bene Quindi dobbiamo andare a solitude Ok Dopo aver indagato Ho superato Non so Forza che parlava A solitude Se completo l'incaroc Per ricevere Va bene La ricompensa Per il momento Ok Dovremmo andare a solitude A sto punto E solitude Ovviamente Dove vuoi che sia Dove vuoi che sia E qua Solitude E qua E qua Però Prima di concludere Allora Mettiamo un attimino In pausa Perché ovviamente Non andremo a solitude In questo episodio Però Vorrei Andare un attimo Che vuole Vuole attaccare Riften Che cazzo Vuole veramente Attaccare Riften Questo Ma che stai cercando Che stai facendo Cosa 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 fai queste Ricognizioni Cosa stai No Sono visibile No C'è proprio Va bene Draghi vedetta Ah Ah C'è Il cavallo qua No Comunque Dicevo Prima che Apparissera La Drago vedetta Per Che è Verto qua Ha fatto due giri Ma non si è ben Capito che cosa Cercasse O chi Cercasse Direi Porca vacca Dimmi E salta No niente Non ce la fa Oh si Voglio vedere se qua Mi danno tipo Qualche lavoro Lo so che Che cazzo Ah Lo so che in realtà Mi hanno già Dato un lavoro Però Hai qualche domanda No questa Non mi dice niente C'è qualcuno Che mi da un lavoro Qui No Lei mi dice qualcosa Le mappe Ah no Queste sono Ah qua Si è proprio Sfondato tutto Allora C'è qualcuno Qua dentro C'è qualcuno Qua dentro Si qualcuno C'è Questa Aspetta Ma questa C'era Prima Comunque Sto Sto cercando Lavoro Capisco E' tutto Scritto Qui Recupero Spazzatura Taglia Pulizia Nei corsi D'acqua Ah ma pulizia In quel senso Taglia Ah è questo Allora Ripesca Cinque oggetti Margaret Ma perché mi fai andare In In Casino Ah per Lo Yarl Tra l'altro Alcune persone Hanno preso L'abitudine Di Gettare Nei corsi Da qua Di Markart Bottiglie Vuote Stivali E altri Oggetti Non solo un effetto Antiestetico Va bene Almeno Cinque oggetti Dalle acque Verrà Ricompensato Ma penso che sia Una Ricompensa Comunque abbastanza Sostanziosa Perché altrimenti Markart Markart Ma dove me lo ami Ah ok Ok proprio qui Markart Allora aspetta Guardo Markart C'è scusa Qua è C'è Ma Sempre Dall'altra parte Del mondo Poi anche al Folkrit Dovremmo andare Mannaggia Mannaggia Che Che avventura Sarà un'avventura Qui ci Ci stiamo Proprio Qui Stiamo Ricevendo Un casino Di incarichi Per Un'avventura Tipo Che Verrà Verrà Ricordata Negli Annali Allora Drago Non c'è più No Che ha fatto Due Pirouette Due Tre E poi Se n'è andato Va bene Allora Questa qua Al momento La lasciamo qui Ma la faremo Appena Deciderò Di andare Verso Fulcrit E Markart E va bene Così Allora Ragazzi Io Direi Cos'è Sto posto Ah Ah è la Fattoria Aspetta Fammi andare Un attimino Qua che c'è Una Una Rubetta Lì Cos'è Una Mini Oasi Di Qualcosa Non so Che cosa Sia Adesso Andiamo A Sbloccarla Un accampamento Campamento Buono Cattivo Fa un salvataggio Campamento Buono Campamento Buono Si sono Cacciatore Sono anni Che vado A cacciare A pesca Da queste Parti Uh è Alla faccia Allora Io prendo Questa Perché Mi servono Per Uh Il nastro D'oro Al merito Ah prendi Visto che Non si Incazzano Radice Canina Che cosa C'è Qua Quello Cos'è Oh Oh Non l'ha Preso Neanche Tigre Lupo Aspetta Che cazzo Ah no Non è un lupe Un orso Quello Due orsi Eh tu sei cattivo Perchè vacca Sta fermo Un altro Chi è Ah è quello Ah è quello Perchè Perchè La volpe Che cazzo Ma Ma vedi le frecce Buggate male Poi anche le Cinematiche Ogni tanto Eh però Allora Una cosa Una cosa alla volta Allora Salva Vediamo sta roba qua Cosa Allora Un'atronach Che Sembra Grut Tra l'altro Prendi tutto Prendi tutto Prendi tutto C'aveva pure Un ametista Cos'è questa roba qua Ardura Autunnale Molto bene Ok Il teschio Un po' meno Ma Va bene così Ok Questa Ardura Ma qua Che bello Funghetti Ste robe Prendi 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 Ah ma che è Tipo la casa di Branzino Cucinato Ah questo Prendi Zaman Nadim Mammut Prendilo Frecce Arco lungo Ma si dai Prendilo Prendi anche questo E basta Si Probabilmente Questo era Tipo la Cosa di un orso Tipo una Tana Ah un altro Uh bucchio di sali Prendi E prendi anche questo Porco Ok C'è qualcos'altro qui Delle ossa Pezzi di scheletri Anche qua Pezzi di scheletri Roba Va bene Va bene Va bene Va bene Va bene Porca vacca Mi sembra Guarda Non ti sembra un volto Quello Porca vacca Mi è sembrato un volto Mi sono spaventato Per un momento Una volpe Temeraria Vero Qualcun altro Dai Fammi giocare un po' Al gioco di caccia Che non è un gioco di caccia Uh L'ho sentito Ti ho sentito Adesso Skyrim Si è Trasformato In Call of the Wild Così Completamente a caso Sul muso Cacchio ti fai in piedi Oh Ok Ok Basta Qua c'è Uh Uh No Non scappare Mannaggia te Cacchio No, che è un alce quella No, è un alce Un alce? Sì, mi sa che è un alce, però si allontana troppo Urca Uff No, questa mi è piaciuta Questa mi è piaciuta Ok, basta così perché altrimenti Veramente questo gioco si trasforma Non sono io, è il gioco Io ho appena detto basta, però No, veramente basta Cioè, veramente sto Giocando a un gioco di caccia Che non è un gioco di caccia Cioè, penso di aver detto tutto Perché allora veramente Mi mettevo a giocare a Call of the Wild No, se veramente devo andare a caccia di orsi Un altro? In tre? Ah no, in due erano Ah, vedi Ok, adesso veramente basta Basta, va bene Basta Direi che per questo episodio di Skyrim Direi che è tutto Vi ricordo che se non siete ancora iscritti In canale iscrivervi Se volete rimanere aggiornati Sui prossimi episodi Di questo gioco E di tutte le serie Che sono attualmente attive sul canale Di mettere un bel pulcione su Se vi è piaciuto questo episodio E mi raccomando di dare anche la vostra Nei commenti E noi ci risentiamo A un prossimo video A un prossimo video